Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto macchine per espresso e cappuccino Pontevecchio luso. Completamente costruite in ottone e acciaio inox. Riscaldamento elettrico con elemento corazzato ad immersione della potenza di 1000 Watt. Funzionamento automatico, controllato dal pressostato. Controllo ottico del livello dell'acqua. Valvola di sicurezza sulla caltaia. Rubinetto vapore. Caldaia speciale in ottone della capacità di litri 3. Lampada di controllo. Interruttore spia. Scaldatazze e basamento raccogli gocce estraibili in acciaio inox. Gruppo erogatore e coppa portafiltro infusione di ottone cromato. Accessori inclusi. Uno filtro per una tazza, uno filtro per due tazze, uno filtro per cialda, uno misurino per caffè, un pressino per caffè, un imbuto. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.